Il municipio del sindaco di Trieste Roberto Cosolini ha ricevuto l'attore musicista Alessio Colauti che in partenza per l'Argentina dove andai in escena il suo spettacolo. Trieste incontra Buenos Aires, un'efficace cartolina della nostra città che sarà presentata in diverse località del paese latinoamericano in collaborazione con l'associazione Giuliani del Mondo. Il viaggio che dal 13 alle 22 febbraio comprenderà anche la visita di località di Patagonia e della Terra del Fuoco e che è organizzato dall'associazione culturale Altamarea con l'avvia degli artisti viaggi in collaborazione con i Giuliani del Mondo. Il patrocino del comune vedrà protagonista con la Urti nella vesta di musicista Buenos Aires dove incontrerà la comunità Giuliana e porterà in escena lo spettacolo musicale coattivato dal maestro Luciano Della che alla chitarra presso uno dei circoli della città a cui presenteranno sia Giuliani che argentini. Questa iniziativa patrocinata dal comune è un'opportunità che ci sta a cuore per far ritrovare Trieste da parte di chi è lontano e la ricorda con affetto e amore anche con chi lo può vivere e visitare da turista. Ha detto Cosolini come è già successo quando quella Urti si è recato a New York nel 2013 in altre città di Monaco di Biavera e Roma Milano. Grazie al sindaco si può concretizzare un evento che è solo l'ultimo di una sede che Altamarea organizza da quando quella Urti è entrata a far parte dell'associazione.